allora questi bastardi hanno messo un cavo d'acciaio eccolo qua lungo questo tracciato che per fortuna stavamo andando piano per fortuna e l'abbiamo visto ovviamente la bici si è fermata sul cavo d'acciaio mi hanno messo uno qua e l'altro l'ho messo qua in fondo qua c'è un bivio ci siamo divisi per incontrarci poi alla fine del percorso hanno messo il cavo d'acciaio al rischio di caderci col collo e uccidersi e qua c'è l'altro qua c'è l'altro che si è strappato perché ovviamente l'ha pigliata in pieno no fortunatamente era un po' ruggito che si è strappato questa gente è da denunciare